Lascio con semplicità e naturalezza, con un senso di gratitudine per l'esperienza fatta, in collaborazione con due papi che per me sono due figure meravigliose per la loro fede, per l'esempio che hanno dato e per la loro saggezza nella guida della Chiesa Universale. Con questi sentimenti padre Federico Lombardi si appresta a lasciare dal prossimo primo agosto l'incarico di direttore della sala stampa della Santa Sede. Dopo dieci anni di servizio, reso sotto il pontificato di Benedetto XVI e Papa Francesco, il gesuita a 73 anni spiega ai nostri microfoni come è possibile trovare le parole adatte anche nei giorni di tempesta, nei momenti bui della storia. Si vive con molta semplicità, diciamo, nella fede e con un senso ecclesiale di solidarietà umana. Le situazioni possono essere differenti, situazioni difficili dal punto di vista ecclesiale perché ci sono fatti tristi o drammatici di cui bisogna parlare, con cui bisogna fare i conti. Penso a tutta la vicenda, per esempio, degli abusi sessuali nella Chiesa e che è stata una vicenda, diciamo, che mi ha toccato molto profondamente in cui ho cercato di vivere anche la dimensione della comunicazione come partecipazione a un cammino di purificazione, di ricerca della verità e del rinnovamento che tutta la Chiesa faceva. E poi la partecipazione ai momenti tristi, diciamo, dell'umanità, come ci dice anche il Concilio, ecco, le gioie e le speranze ma anche le angosce e le tristezze dell'umanità sono quelle della Chiesa. E quindi noi partecipiamo sempre con grande profondità e con grande sincerità, diciamo, al dolore delle persone che soffrono, sempre cercando però di conservare nel fondo una speranza e di incoraggiare a guardare in avanti con la fiducia che anche il Signore aiuta, tutte le sue creature, aiuta tutta l'umanità a ritrovare, nonostante tutto, la strada della pace. E quindi avere un po' la fede necessaria per continuare ad annunciare pace e speranza anche nei momenti più difficili. Attento e discreto, padre Federico Lombardi ha sempre svolto il suo compito con precisione, una chiarezza che gli discende dai suoi studi matematici, cercando di creare un'alleanza proficua con il successore di Pietro nell'annuncio di amore e misericordia del Signore. Un compito che ora passa a Greg Bark, finora vice direttore della Sala Stampa Vaticana, statunitense 56enne, già giornalista di Time e Fox News, e a Paloma García Ovejero, nuovo vice direttore per volere di Papa Francesco. A entrambi va l'incoraggiamento fiducioso di padre Lombardi. Fare con molta serenità il compito, essendo se stessi, mettendosi con tutto il cuore a disposizione di una missione che richiede certamente delle capacità e degli impegni di carattere professionale, ma anche uno spirito, credo, un atteggiamento di amore ecclesiale e di vicinanza al Papa, che sono atteggiamenti che certamente hanno e che dovranno anche coltivare e far crescere a seconda delle circostanze che li impegneranno. Ma direi che non bisogna essere mai preoccupati o spaventati, ognuno riceve poi l'aiuto anche dal Signore per fare bene quello che deve fare.